Aganciarlo a Suso, ci riesce in qualche modo, non c'è spazio però, prova a trovarlo, vuole cacciare col sinistro, balla che arriva a Calericcia, è la sottoregolare, ha scherzato il palo, ricorso breve, parte Suso, Sinicu, inizia di no, leggo il palo al piede, Manza Zapata, lascia partire il cross, non vale a me, si fa la sottoporta, ah, che occasione, Inezza, Mezza Wolfsburg, cerca lo spazio per il cross, l'effetto col destro, Zapata a saltare, balla lì, Borucci, ha provato il volo, recuperato il milan, ha avuto il ballo a Calericcia, attenzione, Andresir va pronto a dentro, salga tutto Caleric, rischia di cadere Obi, arriva da fuori, Suso col destro, quanti abbonimento nella di rigore, eccolo il cross, Vigliaic, ma gira Maselli, nessuno però, si sgraccia Suso dall'altra parte, non viene accontentato, Borucci da fuori, ancora Milan, Zapata, Suso, si accentra col senetro, lo carica, si ripu, il servizio aggora Suso, la pressione da fronte a dentro, Borucci a chiudere col destro, sulla strada delle rete, si è fatto tutto il campo di corcia, il capitale del milan, e poi ancora Silicu su Calericcia, doppia occasione per il Croato, chi c'è di no al quartiere del Toro, ancora Suso, ancora sinistro, Silicu, Divo, a impostare lui, tacco di Andre Silva, che mette in porta Caleric, Caleric, improvvisato da Silicu, ora fuori gioco, e anche questa è una staglia, la palla è di nuovo per il Turco, c'è la No Glu, che sì, dentro, trova Tutrono, vuole liberare il destro, Gardo, e apre per Ansaldi, accompagna l'azione lui, Iago Falca è libero, Ansaldi da fuori, col sinistro, Borucci di fronte a lui, il cross di Ansaldi, il gallo di testa, e poi sotto Falca, Iago!